posizione tengo che io uccide a rotaglia carico una danza uccide a rotaglia carico in attesa maledizione uccisioni doppie li troverò mi serve aiuto fatevi sotto stai indietro nulla che non si possa ritornare sono tornata precisione e controllo scansione in corso proviamo qualcosa il carico ha raggiunto il certo non 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 uccide a rotaglia carico non 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 Mi è sfuggito qualcosa Siamo già stati qui Fucile a rotaglia carico Secondo piede Raggiungetemi all'obiettivo Fucile a rotaglia ancora carico Fermi no La barriera alzata Gli attivi in arrivo Facciamo il cuore Siamo otto Vieni qui, Toki Li distruggo Moira Mi sento meglio Silenzio Trio Aiuto Azione di disturbo Fucile a rotaglia carico è pronto al fuoco Fate via va Sei a carico in attesa Sì Arriva l'artiglieria pesante Agnientiamoli Dopo mi servirà una verniciata Il drago si trasforma in... Fermi no Non è un'attività Inizio con il trovare Chiedo assistenza Tempo supplementare Sono in superiorità numerica Tenete momento Nessuno di voi può fermarmi Nessuno di voi può fermarmi La finiamo Del giudizio Fucile a rotaglia ancora carico Acqua sotto il ponte Che fretta c'è I numeri non ci favorisco Artico la sequenza di autodistruzione Non preoccuparti Hop 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 Brutto punto in cui trovarsi Nulla che non si possa riparare Sto prendendo la zona State fermi Sì 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 Avanti Vivian Datti una regolata Sì 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 scatena la tua forza interiore prego signori dove credete di andare? la rotaia carico è pronto al fuoco e lo scende! raggiungi fatevi avanti mi sento meglio che frettaccia fucile a rotaia carico è l'ora del giudizio attivo la sequenza di autodistruzione i numeri la finiamo ricominciamo mi è sfuggito qualcosa solo nell'unità c'è la vera forza ho ancora qualche asso nella manica ti avevo avvisato siamo più forti insieme ricercato vivo o morto l'ho imparato da te sono più di nuovi sono più di nuovi il mio compito non è ancora finito secondo round perso punteggio uno a uno banchetto per corvi si Sì... Sì... Lo scontro è appena iniziato! Lo scontro è appena iniziato! Deve brunciar... Grazie per il cuore! Questa è la vostra vita! O... Supererò qualunque sfida! Non un altro passo! Fammi dare un'occhiata! Nella cruna di un'acqua! È ora di lottare! Rendezza! Fincare costa per giungere la destinazione! Torretta nemica! Neutralizzata! No! 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 Diretta di me, compagni! Di là! Torretta nemica avvistata, fate attenzione! Oltre già che sei male! Capito? Scatena la tua forza interiore! Dai indietro! No! Preferisci questo alla pensione? Torretta nemica indigata! Questa è la vostra tiro! Torretta nemica individuata! Arrere attacca! No! 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 Non mi fai paura. Azione di disturbo. Destruzione di giro. Fuocala. Non cederò. Fa il carico, procede. E te ne vai! Vittoria. Vittoria.